buonasera a tutti sono andrea ferrara il docente cosmologia qui della scuola e vi do il mio benvenuto a questa prima conferenza pubblica di vis dell'anno la nostra attività è già iniziata da un paio di mesi e continuerà quindi nel resto dell'anno e do anche il saluto a tutte le persone ci stanno seguendo da casa in streaming che so che sono sempre molto numerose e quindi vorrei per chi di voi ancora non conosce vis anche se vedo molte delle persone che ci gratificano sempre della loro presenza costante e noi siamo molto orgogliosi di ciò abbiamo degli aficionados ma abbiamo anche delle persone nuove quindi volevo indicarvi per avere tutte le informazioni sul programma vis che il programma di autrice della scuola al nostro sito che vedete scritto in fondo a questo manifestino che comunque vis.sns.it e vis comprende sia queste conferenze sia anche tutta una serie di altre attività che potrete vedere sul sul sito e alle quali siete ovviamente invitati a partecipare sono tutte pubbliche alcune richiedono una registrazione altre no però sono comunque tutte gratuite e aperte al pubblico quindi stasera abbiamo la come dicevo la prima conferenza nell'area della fisica delle altre energie fisica delle particelle e abbiamo il piacere di avere uno speaker d'eccezione il professor Duccio Abbaneo del CERN di Ginevra e lascio la presentazione più scientifica al mio collega il professor Gigi Rolandi che è il nostro docente di fisica delle particelle da cui cedo molto volentieri la parola grazie grazie Andrea buonasera a tutti è un piacere vedere la sala piena e anche un piacere presentare Duccio Duccio Abbaneo è stato studente della scuola normale e come molti ex studenti della scuola tornano qua con piacere a rivedere questi posti hanno passato ore di studio matto e disperatissimo e si è laureato all'università di Pisa e alla scuola con il professor Lorenzo Foa e a quel tempo lavoravamo insieme sull'esperimento Aleph di cui Duccio poi mostrerà qualche cosa sicuramente e poi ha passato un periodo all'Imperial College a Londra e in questo la parte finale esperimento Aleph lui si è occupato specialmente della fisica dei quark pesanti e ha fatto i primi studi sulle oscillazioni del BS che allora era un'utopia a misurare però sicuramente sono state alcune delle misure più belle fatte all'EP e poi ha partecipato sin dall'inizio all'esperimento CMS abbiamo lavorato assieme per un lunghissimo periodo sulla costruzione del primo tracciatore di CMS e da qualche anno Duccio è responsabile della costruzione del nuovo tracciatore che è un progetto di parecchi anni di cui sicuramente vi parlerà durante la sua conferenza e per cominciare vorrei ringraziare per questo invito è un enorme piacere tornare alla scuola dopo tanti anni posto dove ho passato sette anni forse i più belli e senz'altro i più impegnativi della mia vita finora in questa conferenza comincerò con un po' di introduzione sulle particelle elementari e il modello standard e i rivelatori di particelle se ci sono aficionados di queste conferenze questo probabilmente non vedrete nulla di nuovo ma giusto per introdurre i concetti fondamentali e la nomenclatura e poi diciamo seguendo un pochino il percorso della mia carriera vi illustrerò alcune misure di fisica fatte con Aleph all'app e poi parlerò nella seconda parte di LHC il tracciatore di CMS e la scoperta dell'X e poi quello che stiamo preparando per il futuro. In questa parte racconterò anche un pochino di storie personali, di aneddoti che possono dare un'idea di cos'è la vita di un fisico, di un ricercatore al di là delle cose che poi finiscono sui giornali. Allora cominciamo con l'introduzione. Le particelle elementari avete qui la tabella abbiamo tre famiglie di particelle elementari in ciascuna troviamo due quark e due leptoni nella prima famiglia troviamo i quark up and down e l'elettrone e questi sono le particelle elementari che formano tutta la materia di cui siamo fatti e tutta la materia che ci circonda. Le altre famiglie sono delle repliche più pesanti della prima famiglia che sono instabili e che quindi decadono, si desinterano molto rapidamente in particelle più leggere. La terza famiglia diciamo si può studiare solo in laboratorio le particelle della seconda famiglia o contenenti quark della seconda famiglia in realtà sono state scoperte nei raggi cosmici e poi abbiamo i mediatori delle interazioni interazioni forti, elettromagnetiche e deboli andando un pochino più in dettaglio qui avete la materia ordinaria fatta di atomi composti da nucleo e elettroni che stanno intorno in una nuvola prima cosa interessante e intrigante da osservare e da sapere è che in realtà la materia è essenzialmente fatta di vuoto la dimensione del nucleo di un atomo è 10.000 volte più piccola dell'atomo stesso e poi abbiamo i nuclei formati da protoni e neutroni e a loro volta protoni e neutroni sono formati da quarks. Le interazioni, quattro interazioni interazione gravitazionale è quella che c'è più familiare che è responsabile della caduta dei corpi, il moto dei corpi celesti in realtà in un certo senso è l'interazione che è capita di meno perché oggi capiamo i campi di forza in fisica quantistica sono descritti in termini di quanti che mediano l'interazione e questo funziona per l'interazione elettromagnetica forte e debole ma tutt'oggi non abbiamo una descrizione quantistica dell'interazione gravitazionale e in qualche modo la gravità è incompatibile con il modello standard quindi la relatività generale è incompatibile con il modello standard che invece descrive coerentemente le interazioni elettrodeboli e forti. L'interazione elettromagnetica è responsabile praticamente di quasi tutto quello che ci circonda, di tutta la chimica l'interazione forte è quella che tiene insieme i quark dentro il protone e il neutrone quindi che forma il protone e il neutrone e diciamo l'interazione più periferica dell'interazione forte è anche quella che fa sì che protoni e neutroni stanno insieme nel nucleo e l'interazione debole è responsabile di tutti i decadimenti radioattivi dei nuclei pesanti. Poi per ogni particella esiste la sua corrispondente antiparticella particelle e antiparticelle quando interagiscono si annichilano creando energia e se l'energia è sufficiente questa poi si può convertire di nuovo in coppie particelle e antiparticella e tutte le leggi della fisica sono quasi simmetriche tra materia e antimateria e questo già ci porta a una prima domanda su cui poi tornerò per la quale non abbiamo risposta perché nell'universo troviamo solo materia. Allora qualche parola in più sulla seconda e terza famiglia allora cominciando dai leptoni abbiamo i muoni e i tau che sono delle versioni più pesanti dell'elettrone che si disintegrano il muone si disintegra in elettroni più neutrini il tau è parecchio più pesante può decadere in vari modi diversi. Interessante osservare che il mu ha una vita media che di 2.2 milionesimi di secondo che per una particella elementare è una vita media molto lunga in particolare è lunga nel senso che quando se il muone ha un'energia alta come per esempio negli esperimenti che facciamo in questo tempo il muone viaggia chilometri e quindi è una particella che viaggia a lungo attraversa i rivelatori e quindi è una delle particelle di cui possiamo ricostruire le tracce. Un'altra proprietà del muone è che interagisce poco con la materia e infatti i muoni sono delle particelle che arrivano sulla Terra dal cosmo sono quelle che facilmente attraversano tutta l'atmosfera e arrivano fino a noi. Per i quarks cosa fanno i quark della seconda e terza famiglia? Beh, si possono combinare in barioni esattamente come il quark up e il quark down e fanno delle versioni più pesanti di per esempio protoni e neutroni che poi decadono nella versione più leggera. Un'altra particella che si fa un'altra famiglia di particelle che si formano con i quark sono stati legati di quark anti-quark che si chiamano mesoni. Questi sono tutti instabili ma il più leggero quello fatto da quark anti-quark della prima famiglia ha una vita media più corta del muone sono 0,026 milionesimi di secondo ma di nuovo qui ad alta energia questo basta per viaggiare a lungo abbastanza da attraversare un rivelatore e quindi essere ricostruito come una traccia. Un'altra cosa che è interessante tenere in mente che è intrigante che rimane comunque abbastanza un mistero è che queste particelle elementari hanno masse enormemente diverse tra loro. Se la confrontiamo con il protone che non è una particella elementare un quark B ha una massa 5 volte più grande di un protone e W, Z e top sono 100-170 volte più grandi di un protone e purtuttavia sono particelle elementari e per quanto possiamo dire puntiformi. Questa era una panoramica delle particelle ora qualche concetto sui rivelatori di particelle quindi cosa si vede di tutte queste particelle veramente dentro un rivelatore? Si osservano le particelle stabili quindi o quelle stabili veramente come per esempio l'elettrone oppure quelle che hanno una vita media abbastanza lunga che viaggiano per un tratto sufficientemente lungo da attraversare il rivelatore e poter interagire con la materia del rivelatore. E' sparito? Problema. Quindi, dicevamo osserviamo quelle che viaggiano abbastanza da interagire con il rivelatore quindi per le particelle cariche gli elettroni che sono stabili e i muoni che come abbiamo detto viaggiano a lungo per gli adroni i pioni stati legati quark anti-quark leggeri e poi alcuni anche stati che contengono il quark S mesoni K e poi i protoni che sono stabili. Per gli adroni neutri i neutroni e di nuovo alcuni mesoni K e poi i fotoni. Ora, come si osservano queste particelle? Si osservano facendole interagire con il materiale del rivelatore. Si può pensare il rivelatore come una specie di gigantesca macchina fotografica digitale pixelata in certe parti è effettivamente pixelato e che è sensibile però non solo ai fotoni a macchina fotografica i pixel vede cioè interagisce con il fotone che arriva interagisce col pixel e poi la macchina fotografica ricostruisce l'immagine qui facciamo la stessa cosa solo che i diversi strati sono sensibili ai diversi tipi di particelle e poi di nuovo i pixel vengono accesi dal passaggio delle particelle e poi si ricostruisce un'immagine di tutte le particelle che sono passate. Da notare i neutrini non interagiscono nel rivelatore quindi quelli sono sempre persi e a volte si possono ricostruire come energia mancante se uno sa a priori qual è l'energia totale che deve uscire da un'interazione e se uno è sicuro che il rivelatore non ha buchi non ha pezzi che non funzionano dall'energia mancante uno può inferire quanti neutrini sono andati via quanta energia è andata via in neutrini. Ora chiaramente tutte queste particelle sono ben note da tanto tempo quindi non è quello che vogliamo studiare le particelle che veramente vogliamo studiare sono quelle che si sono disintegrate in quelle e quindi si studiano guardando i loro prodotti di decadimento. In un rivelatore quello che si fa è che si fanno interagire le particelle in sequenza secondo un certo ordine ben preciso. la prima parte di un rivelatore è tipicamente in particolare dei rivelatori che ci interessano a noi oggi è quello che si chiama un tracciatore il tracciatore che è un po' il filo conduttore in qualche modo della mia carriera è la parte del rivelatore dove si ricostruiscono le traiettorie delle particelle cariche. normalmente questa parte del rivelatore è immersa in un campo magnetico fatto da una bobina che sta fuori e dalla curvatura della traiettoria delle particelle cariche si può ricostruire la loro energia. Quello che è importante in questo rivelatore è che deve essere leggero per due motivi primo perché si vuole misurare le particelle come sono come sono state generate nell'interazione senza farle senza modificare la loro energia e poi anche perché le particelle devono rimanere vive per le misure successive che si fanno negli strati successivi. Dopo il tracciatore si comincia a fare quello che si dice le misure distruttive cioè si mettono strati di rivelatori invece molto massicci dove le particelle interagiscono e vengono poi fermate. Nello strato successivo si fanno interagire si fermano gli elettroni e i fotoni che sono le particelle che interagiscono di più con la materia e che quindi fanno degli sciami e vengono completamente fermati. Gli adroni come i mesoni e i protoni interagiscono un po' di meno quindi tipicamente riescono a uscire da questa parte e quindi dietro si mette una parte ancora più grossa ancora più pesante che riesce a fermare anche gli adroni e alla fine l'unica particella che riesce a attraversare tutto quel materiale e uscire è il muone che come abbiamo detto viaggia a lungo e interagisce poco quindi alla fine si mettono degli altri strati di rivelatori dove se si vede passare qualcosa si sa che quello è un muone e questo è come questo funziona in CMS il tracciatore è fatto da una serie di strati sottili di rivelatori al silicio dove si accendono i puntini quando passano le particelle cariche e poi unendo i puntini si ricostruiscono le tracce segue un calorimetro elettromagnetico fatto di cristalli molto pesanti dove si fermano i fotoni e gli elettroni e poi combinando le due informazioni si capisce che quando c'è un deposito con una traccia nel tracciatore quello era un elettrone perché è una particella carica quando invece nel tracciatore non si vede nulla quello era un fotone e poi di seguito abbiamo un grande calorimetro per gli edroni e fuori abbiamo i rivelatori per i muoni e il tutto sta in un forte campo magnetico che fa curvare nel piano trasverso all'asse dei fasci le particelle e così si può misurare la carica secondo da che parte curvano e dal raggio di curvatura si ricavano a misura della loro energia se confrontiamo Aleph Aleph generazione precedente e CMS si vede che la struttura in realtà è molto simile c'è un tracciatore dentro c'è una bobina che fa il campo magnetico rivelatori a muoni fuori e questa struttura a cipolla è tipica dei rivelatori per collisioni cosiddette centrali cioè quando ci sono due fasci della stessa energia che si scontrano la quantità di moto totale è zero e quindi poi dalla collisione le particelle possono emergere in tutte le direzioni e quindi bisogna cercare di fare un rivelatore più possibile sferico che copra tutto l'angolo solido intorno all'interazione e questo si fa si approssima normalmente con una struttura cilindrica chiusa da dei dischi che fanno da tappo ovviamente con un buco per fare entrare i fasci questa era l'introduzione ora comincio la parte di fisica fisica lab prima diciamo perché ho fatto fisica forse posso dire due parole su quello beh prima di tutto perché mi divertiva fin dal liceo mi divertivo a fare matematica e fisica in realtà al liceo mi divertivo di più a fare matematica ma poi ho capito che mi divertivo di più a fare matematica semplicemente perché se ne faceva di più quindi ce n'era di più mi divertivo di più e poi è stato anche grazie alla mia insegnante che era una matematica beh è una matematica in pensione addolorata di non aver fatto fisica che alla fine mi sono reso conto che in realtà la fisica mi interessava di più poi ho avuto il privilegio di entrare come studente qua alla scuola e poi qua alla scuola ho incontrato il professor Lorenzo Foa che mi ha mi ha fatto decidere a fare fisica delle particelle e ho trovato diciamo affascinante l'idea di poter partecipare a questi grandi esperimenti di cui adesso parlerò io ho cominciato a lavorare la mia tesi nel 90 e questo diciamo arrivava nel momento in cui il LEP aveva cominciato a produrre collisione più e meno e c'erano i primi dati da poter analizzare quindi stava partendo l'analisi di questi dati a cosa serviva il LEP il programma di fisica del LEP era di fare era veramente di studiare in maniera dettagliata il modello standard i bosoni WZ erano stati scoperti nella decada precedente da rubia e questa questa macchina aveva come compito di studiarli veramente in dettaglio con misura di precisione quindi prima produrre collisioni all'energia corrispondente alla massa della Z e poi dopo aumentare l'energia sopra due volte la massa del W in modo da produrre coppia W più W meno e poi nella fase finale aumentare l'energia il più possibile quanto possibile all'EP nella speranza di scoprire l'X ora venendo alla prima parte dove io ho cominciato a lavorare la Z cosa fa poi la Z decade in tutte le coppie particella antiparticella che ci sono eccetto il top che è troppo pesante e quindi diciamo lo scopo fondamentale era di misurare le proprietà della Z quindi per esempio i rapporti la frequenza in cui la Z decade in ciascuna di queste particelle la distribuzione angolare e così via però al tempo stesso poi queste particelle per esempio i quark pesanti producono adroni con quark pesanti che non erano mai stati studiati prima quindi l'app è stata anche una fabbrica di particelle con quark C e B che prima che non si conoscevano e che quindi sono stati studiati per la prima volta come si vedono queste cose nel rivelatore in realtà molto bene molto semplice qui avete un decadimento della Z in mu più mu meno si vedono due particelle che vanno da parti opposte che lasciano i puntini nel tracciatore e poi attraversano lasciano puntini anche in tutti i calorimetri qui sono compressi i calorimetri ed escono fuori chiara segnatura di un muone quando la Z decade in elettrone nel tracciatore si è della stessa cosa e poi c'è un grande deposito di energia nel primo calorimetro e poi non c'è niente e niente che esce il tau come detto può decadere in vari modi qui da una parte abbiamo un tau che decade in tre particelle dall'altra parte abbiamo un tau che è decaduto in elettrone e poi invece quando la Z decade in quark anti-quark i quark hanno la proprietà che è una proprietà di interazioni forti che non possono esistere come particella libera quindi quando il quark viene prodotto in qualche modo rallenta converte parte della sua energia in altre coppie quark anti-quark in modo poi da formare stati fisici stati che possono esistere come particella libera di mesoni o barioni e quindi un decadimento in quark anti-quark della Z ha questo aspetto qua con parecchie particelle da una parte e dall'altra che vengono dalla dronizzazione dei quark la mia tesi di laurea è stata la misura della simmetria del decadimento della Z in BB bar questo è un parametro è una misura importante nel modello standard perché è una cosa che si può calcolare nel modello standard che dipende proprio dai parametri fondamentali del modello quindi è una verifica quantitativa importante del modello il modello standard ci dice che nel decadimento della Z in BB bar il B va di preferenza prosegue nella direzione dell'elettrone entrante e il B bar va dall'altra parte ora questa siccome un decadimento in quark ha quell'aspetto lì la misura non è completamente facile come si fa a riconoscere un decadimento in BB bar beh si riconosce da varie cose una cosa fondamentale è che il quark B adronizza in questi mesoni o barioni che sono versioni più pesanti del pione e del protone e questi hanno una vita media che non è un milionesimo di secondo come il muone è un milionesimo di milionesimo di secondo ma comunque questo è già abbastanza per viaggiare circa 3 mm prima di decadere alle energie di LEP ora 3 mm non si misura la traccia perché il primo puntino della traccia che c'è nel rivelatore è molto più lontano però se la traccia è misurata molto bene quando poi si estrapola indietro si può vedere che in un decadimento di un mesone B non tutte le tracce vengono dallo stesso punto dove c'è stata la collisione più e meno ma alcune tracce vengono da un po' più in là e questa è un'indicazione che quello poteva essere un decadimento della ZMBB bar e poi dopo un'altra segnatura per esempio che ci può essere un muone nello stato finale poi dal segno di questo muone se è positivo o negativo uno può dedurre se era un quark B o un quark B bar un anti-quark B quindi insomma poi alla fine uno produce un grafico come questo della distribuzione angolare dei quark B che è molto semplice e dove si vede a occhio che il quark B va più da una parte che dall'altra e questo in realtà è il grafico finale che abbiamo fatto nel 2002 su tutta la statistica alla Z e il primo grafico che ho prodotto io è nel 1990 su una manciata di dati dava una misura del 18% più o meno 10 quindi con un errore enorme ma comunque me lo ricordo ancora quando quello è successo e forse sono stato la prima persona che ha prodotto un grafico dove si è visto un sospetto di asimmetria avanti e indietro del quark B e queste misure di decadimenti nei diversi fermioni e distribuzioni angolari restano tuttora tra le verifiche più importanti che abbiamo del modello standard perché non c'è stato poi più ancora un altro acceleratore che ha preso che ha prodotto collisioni all'energia corrispondente alla massa della Z ora come aveva già annunciato Gigi una sfida speciale all'EP è stata la misura che poi alla fine non abbiamo fatto delle oscillazioni del mesone BS la mesone BS è di nuovo una versione del più pesante del pione che è fatto da una combinazione di quark B e anti-quark S o viceversa questa particella ha la proprietà che quando viene prodotto per esempio un BS che viene prodotto come BS durante la sua vita prima di decadere cambia continuamente natura tra BS e BS barra con una certa frequenza quindi questo è quello che si chiama l'oscillazione quindi un BS prodotto come tale in funzione del tempo può decadere o come BS o come BS barra e così via con una frequenza molto alta ora questo di nuovo è un parametro che si calcola nel modello standard e che si voleva verificare sperimentalmente ora però per misurare una cosa del genere è estremamente difficile perché in più a riconoscere che questo quel decadimento adronico era effettivamente un B poi uno deve cercare di riconoscere che è un BS poi distinguere il BS dal BS barra al momento in cui è decaduto che si fa guardando i prodotti di decadimento poi uno deve anche cercare di capire se era un BS o un BS barra quando è nato quando è stato prodotto che si può fare guardando le tracce associate al vertice primario oppure guardando il B dall'altra parte ma poi quello che è più difficile è che siccome questa oscillazione è molto veloce in tempo uno deve misurare il tempo che la particella ha volato prima di decadere molto precisamente perché se la misura è meno precisa della frequenza di oscillazione qui si cancella tutto e non si vede più nulla e questo chiaramente non era fattibile con i rivelatori che avevamo all'app ovviamente quando una cosa è impossibile viene voglia di farla più una cosa è impossibile più viene voglia di farla e comunque per riuscire a fare qualcosa in Aleph era stato inventato un metodo diciamo un grafico così chiaramente non si può fare perché uno non riesce a collocare sull'asse dei tempi gli eventi con sufficiente precisione allora è stato inventato un metodo diverso quello che cioè invece di cercare di misurare la frequenza usare una frequenza di prova e misurare l'ampiezza dell'oscillazione se la frequenza fosse quella e l'idea è che se la frequenza è sbagliata uno misura ampiezza uguale 0 e se uno è alla frequenza giusta dovrebbe misurare ampiezza uguale 1 e in questo modo se uno prova comincia con frequenze di test basse si sapeva che la frequenza doveva essere alta uno comincia a misurare 0 e fin tanto che uno misura 0 con un errore sufficientemente piccolo che può dire che è 0 e non è 1 quell'intervallo di frequenze è escluso è sicuramente non buono il che diciamo è già un'informazione molto utile e quindi diciamo si producevano questi tipi di plot in cui poi uno può anche combinare insieme misure diverse fatti di esperimenti diversi e ottenere una media mondiale e c'era questo articolo qua fatto da due fisici di Aleph che era la Bibbia di questo metodo detto delle ampiezze che spiegava tutto tutto questo concetto ora però quello che è successo è che a un certo punto si cominciava ad altre frequenze a misurare delle ampiezze che non erano più 0 ma che erano 1 o qualche volta anche più di 1 che poteva essere un'indicazione che cominciavamo a vedere il segnale però c'erano dei problemi perché mentre era chiaro e poi con l'andare del tempo e con le misure che miglioravano la cosa diventava sempre più evidente si cominciava a vedere anche dei valori che cominciavano a non essere più tanto compatibili con 0 quindi un sospetto di segnale però non era chiaro come quantificare se questo era veramente quanto era significativo il segnale o se poteva comunque essere una fluttuazione e poi non era chiaro cosa succedeva poi per frequenze più alte cioè quando si misuravano valori addirittura più alti di 1 era l'analisi sbagliata o cosa doveva succedere per poter dire che effettivamente l'avevamo misurato si doveva vedere tornare l'ampiezza a 0 per valori più alti oppure no tutto questo non era chiaro e questo articolo sembrava indicare che l'ampiezza dopo il valore giusto doveva tornare a 0 poi un giorno viene a trovarmi uno studente francese che lavorava nel gruppo che stava finendo la sua analisi stava scrivendo la tesi e quindi stava mettendo a posto tutti i conti per bene per scrivere la tesi mi dice ma hai provato a rifare i conti di questo articolo no no scusa non di questo articolo di questo articolo no non ho provato ho guardato ho guardato le conclusioni l'hanno fatti loro i conti ci fidiamo ma io ho provato e non non mi riescono prova di più dice no ma secondo me non torna è sbagliato va beh va vai vai e però lo studente era bravo e mi aveva messo il dubbio e poi una domenica mi sono messo a rifare i conti ho imbrattato un monte di carta effettivamente i conti non tornavano ma poi c'era un'altra studentessa catalana molto brava ci siamo messi a guardare la cosa insieme e in effetti ci siamo convinti che in quell'articolo c'erano delle assunzioni che non si delle approssimazioni che non si applicavano al nostro caso in cui la risoluzione nella misura del tempo non era buona abbastanza cioè non era buona rispetto alla frequenza dell'oscillazione ci abbiamo pensato un po' e poi finalmente una notte mi viene l'idea giusta perché continuavamo a cercare di rifare i conti nello stesso modo come erano fatti nell'articolo fare una cosa completamente diversa non fare conti analitici ma usare metodi numerici e là si fa la luce e poi dopo lavorando con questo studente abbiamo fatto abbiamo rifatto tutti i conti in maniera diversa abbiamo capito che in effetti oltre il valore l'eventuale valore vero l'ampiezza non deve tornare a zero ma può diventare un valore qualunque secondo i dettagli della risoluzione del rivelatore e abbiamo derivato un modo per quantificare l'eventuale significatività di un segnale e l'abbiamo pubblicato a quel punto avevamo tutti gli strumenti per provare a fare la misura e quindi ci siamo messi a cercare di migliorare l'analisi per cercare di avere la risoluzione sufficiente e abbiamo fatto una misura che da sola era buona quanto la media mondiale fino a quel momento che ha provocato un po' di gelosie negli altri esperimenti letto e poi quando questa è stata messa insieme poi nel 2002 con tutte le altre misure che c'erano negli altri esperimenti in giro per il mondo siamo arrivati a questa cosa qua che effettivamente ci aveva un buon buon indizio di segnale qua però purtroppo non era abbastanza per poter dichiarare che l'avevamo misurata sarebbero serviti due o tre volte più dati per poter sperare di misurarla e quindi poi qua ci siamo arresi e poi dopo negli anni successivi CDF in America Tevatron ha ricominciato a produrre collisioni e finalmente la cosa è stata misurata da CDF ed era esattamente nel punto dove vedevamo l'eccesso quindi questa è stata una non scoperta però comunque rimane la soddisfazione di aver fatto tutto il possibile e poi per il piacere vi mostro cosa fa oggi a LHC l'esperimento LHCB che è un esperimento dedicato alla fisica del B e loro non usano il metodo delle ampiezze perché hanno una risoluzione nel tempo che è meravigliosa e quindi possono semplicemente fare il grafico degli eventi che ricostruiscono come oscillati e quelli non oscillati e questo è quello che vedono che dimostra che una generazione più tardi di esperimenti quello che ha fatto perdere il sonno a decine e decine di fisici prima per poi non riuscirci adesso c'è un plotter come questo che è una meraviglia ora passo alla seconda parte dopo aver fatto tutta questa fisica dei corpi pesanti che poi alla fine dove ho cominciato da studente e ho finito poi come coordinatore del gruppo a un certo punto Gigi mi ha proposto di andare con lui a lavorare a lavorare su CMS per costruire il tracciatore che è stata per me un'esperienza nuova perché appunto fino a quel momento avevo fatto analisi dati beh siamo in ritardo forse questa parte se vogliamo stare nei tempi devo saltarla forse salto la scoperta dell'X che questa sicuramente l'avete già sentita tante di quelle volte che quella possiamo saltarla giusto due parole sul rivelatore di CMS è il al momento è il rivelatore di silicio più grande che sia mai stato costruito io sono stato responsabile della costruzione di questa parte della parte cilindrica centrale vedete qua la posizione in tre dimensioni dei rivelatori al silicio e sono 15.000 moduli 10 milioni di strisce nella parte esterna e poi nella parte interna dove la densità di tracce è più alta c'è un rivelatore pixelato fatto a pixel che ha 66 milioni di pixel qui vedete alcune figure della foto della costruzione queste sono strutture della parte in cui ero responsabile io vedete la struttura meccanica su cui poi venivano montati i moduli e poi queste venivano inserite in una struttura meccanica di supporto qui vedete fibre ottiche e poi alla fine quando tutto era completato era così questa è la parte dove poi veniva inserita la parte interna e qui vedete cavi e fibre ottiche che vengono fuori e poi alla fine il tracker è stato inserito in CMS con tutti i cavi arrotolati alla fine e poi dopo in tre mesi è stato collegato ai servizi esterni allora saltiamo il bosone di X sì ecco confesso che non sono andato al seminario in cui è stato annunciato l'ho seguito da remoto perché era il 4 luglio quindi c'erano ci sono gli studenti estivi a Cerna e c'era la gente che ha dormito lì fuori che ha fatto la coda e quindi l'ho visto con gli altri ragazzi del gruppo l'abbiamo visto in una sala a riunioni e vabbè però è stato un momento emozionante vi dico invece qualcosa sul futuro ora il modello standard funziona benissimo però lascia aperti enormi problemi che ovviamente richiedono un'estensione della teoria ne elenco alcuni i più importanti la materia oscura sappiamo dall'osservazione della rotazione delle galassie che nell'universo c'è molta più materia di quella che conosciamo l'energia oscura sappiamo che l'universo si espande il fatto che si espande nonostante la gravità vuol dire che contiene energia e contiene una quantità di energia che è molto più grande di quella che conosciamo e di quello che ci aspettiamo dal modello standard e si stima che 5% è la massa ordinaria 25% è materia che non conosciamo e poi c'è un addizionale 70% di energia di una natura che non conosciamo e la cosa intrigante è che il modello standard spiega magnificamente bene questo 5% tutte le misure che si fanno misure di precisione tornano perfettamente con le predizioni del modello standard ma non c'è niente nel modello standard che ci aiuta a spiegare il rimanente 95% poi come ho già detto c'è la simmetria tra materia e antimateria dell'universo che non è spiegata dal modello standard la descrizione quantistica della gravità più altre cose che comunque sono insoddisfacenti il fatto come dicevo questa enorme differenza tra la massa e le particelle che non è riconducibile a niente di più fondamentale il fatto che comunque il modello ha tanti parametri che sono messi dentro a mano e così via allora cosa faremo oltre LHC beh ci sarà una nuova fase di LHC che partirà dopo il 2025 in cui verrà aumentato di molto la quantità di collisioni che l'acceleratore produce oggi l'acceleratore produce collisioni ogni 25 nanosecondi quindi con una frequenza di 40 MHz e per dire un numero tipico in ogni incrocio di pacchetti di protoni ci sono 20 collisioni che provocano 700 tracce di particelle dentro l'evento di tutto di tutto ciò produce poi una frazione molto piccola di eventi interessanti che poi bisogna essere capaci di selezionare quello che si chiama l'alta luminosità ai luminosi TLC l'acceleratore verrà migliorato in modo da poter produrre 10 volte più collisioni a ogni incrocio dei fasci il che provocherà 6-7 mila tracce per evento il che complica enormemente il compito del rivelatore di poi capire studiare queste collisioni poi ovviamente quali saranno gli eventi interessanti gli eventi rari in questa condizione speriamo di scoprire qualcosa di diverso che cambierà le nostre priorità ho sbagliato ma pigiore ora questo è uno schema del tracciatore che abbiamo adesso abbiamo come dicevo abbiamo 10 milioni di canali nella parte esterna e 66 milioni di pixel per il futuro stiamo disegnando una cosa che a prima vista sembra non tanto diversa ma la prima cosa abbastanza importante da notare che ovviamente avendo 10 volte più tracce da ricostruire abbiamo bisogno di una granularità molto più alta di canali quindi nella parte esterna da 10 milioni di strisce andremo a 45 milioni di strisce più avremo dei pixel anche nella parte esterna 170 milioni e per la parte a pixel passiamo da 66 milioni a circa 2 miliardi di pixel ma questo non è la cosa più difficile per spiegarvi la cosa più difficile vi devo fare una piccola digressione su quello che chiamiamo il trigger cioè come funziona veramente la lettura dei dati dal rivelatore attualmente tutti i canali di CMS sono campionati a 40 MHz che è la frequenza con cui l'acceleratore produce collisioni quindi produce particelle in maniera sincrona con l'incrocio dei fasci ora tutti questi dati non possono essere letti fuori dal rivelatore perché sarebbe troppo i link ottici che abbiamo possono trasportare al massimo l'informazione per circa 2 eventi su 1000 cioè 100 kHz dei 40 MHz di collisioni che vengono prodotti quindi come si fa ovviamente questi due eventi su 1000 bisogna scegliere i due buoni perché tutti gli altri sono persi a informazione che non verrà mai fuori dal rivelatore allora cosa si fa una piccola frazione del rivelatore tipicamente la parte esterna che è meno congestionata e più facile da capire viene letta ad ogni collisione questa informazione viene analizzata molto rapidamente per cercare di capire se la collisione era interessante o no e poi una decisione cioè un segnale che decide se la collisione era interessante o no viene mandato indietro al rivelatore nel rivelatore ci sono delle memorie che tengono lì i dati per un po' e se la decisione arriva in tempo poi la collisione giusta viene letta fuori e questo è quello che si chiama il trigger ora questo sarà molto più difficile ad alta luminosità perché gli eventi sono molto più complicati con molte più particelle allora quello che pensiamo di fare è di aumentare il tempo a disposizione per questa decisione quindi avere delle memorie più lunghe in modo che c'è più tempo di fare una ricostruzione un po' più accurata in ogni caso alla fine leggeremo fuori più dati di quelli che facciamo adesso e poi quello che è importante è che per fare questa ricostruzione abbiamo più tempo ma abbiamo bisogno anche di più informazione e la cosa un po' folle che abbiamo deciso di fare in CMS è di usare anche il tracciatore per la decisione di trigger che tipicamente essendo il rivelatore più complicato è quello che non si usa nella ricostruzione veloce per il trigger ora però come ho detto il tracciatore avrà 50 milioni di strisce anche nella parte esterna e 150 milioni di pixel tutta quell'informazione non si può leggere a 40 megahertz quindi bisogna fare dei rivelatori si può leggere solo una piccola parte quindi bisogna fare dei moduli intelligenti che sono capaci da soli di decidere quali dati mandano fuori ad ogni ad ogni collisione e quali dati invece vengono mandati fuori solo quando il trigger decide che la collisione era interessante e per fare questo abbiamo inventato questo concetto qua che è di avere dei moduli che hanno due rivelatori di silicio che sono letti dallo stesso chip e nello spazio che c'è tra i due rivelatori di silicio la particella nel campo magnetico curva e possiamo separare le particelle che curvano poco che sono più energetiche dalle particelle che curvano tanto che sono meno energetiche e mandare fuori solo i segnali delle particelle più energetiche questo sembra già abbastanza difficile ma c'è ancora un problema un ultimo problema che non riuscivamo a risolvere che per fare questo bisogna fare dei rivelatori che hanno le strisce orientate lungo a z e che sono lette che sono collegate all'elettronica di lettura dai lati perché bisogna leggere nello stesso chip il segnale dei due rivelatori però con le strisce non si misura l'altra coordinata e in un rivelatore è più importante ovviamente misurare la coordinata in cui le particelle curvano ma bisogna misurare anche l'altra per ricostruire bene le tracce quindi c'era bisogno anche di un rivelatore intelligente a pixel ora il problema di un rivelatore intelligente a pixel è che i pixel non si possono leggere da un lato bisogna leggerli su tutta la superficie le strisce si leggono con questi filini microfilini che si chiamano wire bond i pixel siccome sono su tutta la superficie invece si leggono con delle micropalline che li attaccano al chip di lettura che copre tutta la superficie e quindi per poter fare un modulo intelligente con due sensori collegati e con dei pixel prima del 2011 avevamo delle cose così con due silici due sensori un circuito nel mezzo collegato con queste micropalline sopra e sotto e questo come tecnologia è difficilissimo e poi quello che è peggio è che se poi uno vuole fare avere dei sensori abbastanza spaziati per poter ricostruire bene la curvatura questo diventa un mattone e quindi il tracciatore diventa estremamente pesante qui ci abbiamo pensato un certo numero di anni e poi finalmente nel marzo 2011 discutendo con un ingegnere elettronico viene l'idea di fare una cosa ibrida con un sensore a pixel e l'altro sensore a strisce in questo modo si misura sempre la coordinata z e l'altra coordinata da una parte sola e però in questo modo si riesce a fare la connessione al bordo e lasciare lo spazio vuoto in mezzo ai due questo è uno scarabocchio che venne fuori a un caffè che normalmente è uno stereotipo che gli scienziati fanno gli scarabocchi al caffè non succede mai invece quel giorno è successo e lì mi sono reso conto immediatamente che quel giorno lì è veramente nato il futuro tracciatore di CMS perché fino a quel momento erano chiacchiere ma non si sapeva veramente come farlo e questo è come questo oggetto lo capiamo oggi molte cose sono cambiate abbiamo scoperto questa tecnologia di circuiti flessibili che è molto interessante però essenzialmente il concetto è rimasto lì e questo è stato è stato un momento diciamo emozionante anche questo però più difficile da condividere con altri perché è rimasta un po' la frustrazione che lì cioè mi sono accorto che quel giorno è nato il futuro tracciatore di CMS ma me ne sono accorto solo io e poi dopo va bene abbiamo anche inventato tante altre cose come per esempio questa struttura meccanica con i moduli progressivamente inclinati che nessuno ha mai fatto prima giusto due parole per concludere come si costruiscono questi rivelatori queste collaborazioni questa è l'organizzazione che avevamo per i diversi compiti di assemblaggio costruzione per il tracker attuale vedete è una cosa completamente folle se guardate i nomi qui abbiamo America abbiamo tanta Italia e il resto d'Europa c'è una una cosa esotica da qualche parte c'è un piccolo Islamabad che in realtà è una cosa che è stata che è stata iniziata da Gigi futuro tracciatore stiamo facendo una cosa molto simile in aggiunta alla complicazione che abbiamo anche contributi grandi da India e Pakistan ci sono circa 300 fisici ingegneri al momento attivi sparpagliati in tutti questi paesi 15 paesi che dovranno aumentare se vogliamo essere capaci di costruirlo il tutto è una meravigliosa collezione di tecnologie innovative soluzioni che non sono mai state usate prima una collezione di persone di culture diverse sparpagliate su 12 fusi orari quindi anche trovare un momento per fare una riunione in cui tutti possano partecipare non è banale non c'è nessuna struttura gerarchica perché tutte queste persone dipendono da istituti diversi da paesi diversi e quindi alla fine che facciano quello che gli viene detto è una cosa che rimane sempre da verificare e una logistica impossibile perché in tutti questi posti la gente vuole avere qualche attività locale quindi finiamo per spedire cose a destra a sinistra in tutto il mondo ma comunque pensiamo che alla fine ci riusciremo come è sempre stato il caso finora allora per concludere queste questa serie di conferenze si chiama la scoperta che mi ha cambiato la vita le scoperte sono o anche sono momenti chiaramente di gioia la scoperta dell'X è stato un grande un grande momento di gioia condivisa in realtà quello che cambia che cambia la carriera più delle scoperte sono gli incontri con persone speciali per me le persone speciali sono state prima la mia insegnante del liceo poi Lorenzo Foa e Gigi ma anche gli incontri con uno studente motivato che ti spinge a farti una domanda in più e a stare sveglio un'ora di più la notte per arrivare in fondo a un problema e però poi come ho cercato di dirvi ci sono tanti altri momenti di gioie più piccole e molto meno condivise che comunque sono importanti e fanno bello il mestiere e fanno avanzare la ricerca e per finire finire siccome le tracce sono state il filo conduttore del seminario ogni tanto ci sono anche altre tracce che trovo interessanti e ogni tanto faccio una pausa e mi dedico a questo tipo di tracce buonasera io sono Marco Valdes coordinatore del progetto VIS voglio ringraziare voi tutti per essere qui stasera e ringraziare Duccio Abano per la bellissima presentazione che ha fatto capire sicuramente un po' a tutti voi cosa si fa al CERN cosa fa un ricercatore al CERN e così il percorso di una scoperta una non scoperta insomma veramente grazie per aver colto lo spirito di VIS appieno e faccio molto rapidamente due piccoli annunci prima di passare la parola a voi per fare domande al Duccio Abano e il primo è che subito dopo le domande c'è un cocktail che ho offerto a tutti voi proprio nella sala qui di fronte quindi uscite dalla sala azzurra e nella sala di fronte che è la sala del Gran Priore c'è un breve rinfresco e poi così vi dico rapidamente la prossima conferenza è l'8 febbraio e il tema sarà la biologia il professor Alessandro Cellerino della scuola normale ci parlerà di una sua scoperta e ok vi rinnovo l'invito fatto prima dal professor Ferrara a controllare sulla pagina web di VIS le novità e vi potete anche registrare mettendo la vostra email e riceverete tutte le notizie sulle attività di VIS e adesso passo la parola a voi per sicuramente ci saranno domande per il professor Abano le domande vanno fatte col microfono lei ha toccato incidentalmente il problema materia antimateria ora sappiamo che l'interazione materia antimateria è distruttiva però quello che non mi è chiaro io non sono un addetto ai lavori preciso quando un elettrone incontra e viene in contatto con un anti-elettrone si produce energia e vengono annichilate le particelle così un protone con un antiprotone dà luogo a un'interazione distruttiva ma cosa succede quando un elettrone viene in contatto con un antiprotone succede lo stesso oppure le particelle devono essere corrispondenti e perché allora l'annichilazione avviene solo tra particella antiparticella della corrispondente antiparticella e poi un'altra cosa da tenere presente che avevo ma è una delle cose su cui ho sorvolato che le particelle che si annichilano sono particelle elementari il protone non è una particella elementare quindi per esempio quando facciamo le collisioni protone protone LHC ma sarebbe lo stesso se facessimo protone antiprotone che sono le collisioni che si facevano al Tevatron in America la collisione di alta energia in realtà non si sa veramente cosa succede perché nel protone ci sono dentro il protone ci sono i quark legati in un mare di gluoni quindi quando si fanno scontrare queste strutture complesse come due protoni o un protone antiprotone in realtà con una certa probabilità quello che si fa è una collisione tra quark che succede con una certa probabilità e poi quando succede non si sa quanta è effettivamente l'energia che era trasportata in quel momento dal quark da una parte e dall'altra e questa è una differenza importante tra le collisioni più o meno che sono particelle elementari e una collisione protone-protone in una collisione di particelle elementari particella-antiparticella si sa esattamente l'energia della collisione che è la somma delle energie delle due particelle mentre in una collisione protone-protone o protone-antiprotone è una distribuzione statistica perché non si sa una per una non si sa che collisione sta veramente succedendo a livello elementare e comunque l'annichilazione è solo tra particella-antiparticella dello stesso tipo domande? che pentapark esistono o no? certamente esistono non c'è niente nel modello standard o nella fisica che conosciamo che vieta di aggregare i quark in maniera più complicata l'unico vincolo il vincolo è che la combinazione deve essere tale che il colore totale deve essere zero e quindi come diciamo le combinazioni più normali quelle che si riescono a produrre e studiare in maniera relativamente facile sono i mesoni e i barioni quindi quark-antiquark o tre quark però anche due quark due anti-quark è possibile cioè non è proibita e così via i pentacuark però non si sono ancora visti no no ci sono evidenze ora non sono aggiornato non è il tipo di fisica che è ma ci sono oggi evidenze di possibili di stati di combinazioni che possono essere interpretate come 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 pentacuark un attimo le do il microfono perché se no non sentono lo streaming scusi il fatto di rivelatori com'è che è così difficile identificare le particelle di materia oscura che dovrebbero essere molto massive allora questi rivelatori rivelano particelle così piccole tipo le particelle come dicevo le particelle in un rivelatore si vedono tra virgolette perché interagiscono col rivelatore stesso il rivelatore quando viene attraversato per esempio da un muone o da un elettrone se è un rivelatore di un certo tipo la particella crea un segnale elettrico dentro il rivelatore che poi si legge quello è un puntino e poi si uniscono i puntini e si fa la traccia questa è per le particelle diciamo della materia ordinaria poi per vedere le particelle come l'X che non lasciano tracce nel rivelatore si studiano combinazioni di particelle che si vedono e si scopre che ci sono combinazioni ricorrenti che corrispondono quindi alla produzione dell'X ora la materia oscura che non si sa cos'è per per sua natura è qualcosa che interagisce molto poco perché se interagisse l'avremmo vista quindi lei mi sta chiedendo perché deve avere un certo numero di proprietà quali che interagisce che può contribuire alla massa gravitazionale dell'universo ma anche che deve avere delle proprietà di interazioni tali che l'hanno resa invisibile fino a questo momento ora lei ha citato il neutralino i neutralini sono delle particelle che sono previste da certi modelli come la supersimetria e che finora non sono stati osservati cioè abbiamo dei limiti sulle proprietà dei neutralini che sappiamo che non possono essere più leggeri di un tot se no li avremmo visti ma non sappiamo se esistono per il momento non li abbiamo visti per quanto ne sappiamo non ci sono cioè la materia oscura lei mi sta chiedendo perché non la vediamo non sappiamo cos'è non è osservata se lo sapessi cos'è non lo terrei segreto faccio sfatare una cosa che lei ha detto pesante non vuol dire grande sono due concetti diversi tutte le particelle elementari a quanto ne sappiamo noi non hanno dimensione sono più piccole di dieci alla meno sedici diciotto metri anche il quark top sì sì questo l'ho detto prima una cosa veramente misteriosa esattamente cioè tutte le particelle elementari per quanto ne sappiamo sono puntiformi cioè non abbiamo nessuna indicazione di una dimensione di una dimensione fisica e e e e ciò nonostante hanno delle masse enormemente diverse l'una dall'altra ma il quark top è puntiforme tanto quanto l'elettrone sì chiaramente siamo abituati a pensare in termini di palle da biliardo ma le particelle elementari sono molto diverse da una palla da biliardo buonasera io volevo chiedere due cose allora innanzitutto quali sono ad oggi le le frontiere per cui riguarda l'integrazione della gravità con il modello standard e poi probabilmente questa è una considerazione molto sciocca perché però essendo la gravità una forza che ha raggio d'azione infinito non dovrebbe essere il gravitone una particella avente massa zero comunque molto piccola e poi volevo chiedere anche ho saputo qualche tempo fa che all'esperimento AMS del CERN sono stati fatti dei rilevamenti sulla materia oscura però non sono più riuscita a trovare niente dopo aver appunto avuto questa notizia perché ho preso degli appunti molto confusi e quindi volevo chiederle se poteva dire due parole anche su questo insomma grazie penso che su questo forse c'è qualcuno in sala che ne sa più di me dunque per il gravitone sì il gravitone appunto dovrebbe avere massa zero sì però non c'è una teoria quantistica della gravità che funziona la relatività generale funziona tutto quello che siamo stati capaci di misurare finora sulla gravità è compatibile è spiegato dalla relatività generale e però non abbiamo una teoria quantistica della gravità che sia coerente e che possa riprodurre i risultati sperimentali quindi questo è tutto quello che so dire sulla gravità per quanto riguarda i risultati di ammesso non li conosco per cui che riguarda insomma sempre il gravitone no ma come si pensa di poterlo trovare andando sempre a più alte energie se a più alte energie si vanno a cercare particelle con massa maggiore se il gravitone è a massa zero il gravitone è stato misurato cioè il gravitone diciamo come c'è un'onda come c'è un'onda elettromagnetica che sono dei fotoni così ci sono delle onde gravitazionali che sono gravitoni quindi la rivelazione delle onde gravitazionali che hanno fatto Virgo e Ligo è stata la prima indicazione in laboratorio di aver visto un'onda gravitazionale e quindi un gravitone nella stessa maniera con cui uno dice c'è un'onda elettromagnetica e c'è un fotone per quello che riguarda AMS l'esperimento AMS ha misurato dei flussi di varie particelle in particolare ha misurato flussi vuol dire quante particelle uno vede per un secondo per unità di superficie ha misurato gli flussi in funzione degli elettroni e dei positroni in funzione dell'energia dell'elettrone e del positrone e questi flussi misurati con estrema precisione da questo bellissimo esperimento che è sulla stazione spaziale mostrano un andamento che a tutt'oggi non è completamente capito non abbiamo un modello cioè è difficile uno misura flussi di particelle e si chiede come nel cosmo ci sono particelle di questo tipo che arrivano fino a noi e diciamo fra i tanti modi di spiegare le misure che ha fatto MS ci sono anche modelli che queste particelle siano il risultato di una catena di decadimenti in cui c'è per esempio particelle neutre pesanti come i neutralini però è uno dei tanti modi non c'è una prova che questo qui è visto prego c'era un'altra domanda qui volevo avere qualche indicazione sulle tecnologie che utilizzate per le memorie che usate per conservare i segnali in attesa dell'eventuale trigger per passare dai 40 megahertz ai 700 però volevo giustificare la domanda nel senso che quando ho sentito di questo problema mi sono venute in mente le prime memorie dei calcolatori che venivano fatte con linee di ritardo al mercurio per cui ho avuto questa visione folle di rivelatore no queste memorie sono celle di memoria che stanno dentro i chip di lettura quindi quello che succede è che il rivelatore per esempio il rivelatore al silicio quando viene attraversato da una particella carica produce un segnale un segnale un segnale elettrico questo viene letto e amplificato dal chip di lettura viene tipicamente digitizzato in modo da essere trasformato in un numero e poi c'è una memoria locale dentro il chip di lettura che ha una certa lunghezza in cui questo numero viene conservato poi un'architettura tipica la più semplice è la pipeline quindi ci sono un certo numero di celle per ogni canale per ogni striscia o pixel che sia dove questi numeri vengono scritti e poi sovrascritti e quando è finita la pipeline quello è perso e prima di arrivare in fondo a questa fila di celle bisogna che arrivi l'informazione che quella cella lì contiene un'informazione interessante e quel numero viene letto fuori prima che sia perso ultima domanda per quanto riguarda il tracciatore CMS per la rivelazione della curvatura delle particelle a quanto ho capito dopo che le particelle si collidono si generano del calore cioè si genera un'energia termica sul materiale questa energia termica potrebbe provocare un'inflessione del tracciatore e non ho capito com'è che controllate questo fenomeno che magari può influenzare la corretta rivelazione delle particelle sono sicuro di avere capito la domanda qui rispondo a diciamo posso dare alcuni concetti se riesco ancora a proiettare le prendiamo per esempio per esempio questa figura qua no perché non si parlo a braccio va bene ora il tracciatore deve fornire le coordinate i punti dove da cui è passata la particella e questi punti devono essere precisi quindi per avere dei punti precisi bisogna sapere esattamente dove ogni rivelatore sta quindi ci sono due aspetti importanti sapere dove ogni rivelatore sta e poi se questa posizione rimane stabile o in qualche modo se poi ci sono delle distorsioni dei movimenti in funzione del tempo e tutto quanto allora prima di tutto ovviamente si cerca di fare delle strutture meccaniche precise ma al tempo stesso si vogliono fare delle strutture meccaniche molto leggere perché il tracciatore deve essere leggero quindi si fa un compromesso tra la solidità diciamo tra la rigidità e il peso in ogni caso la posizione vera quindi c'è una posizione nominale in cui da disegno ogni modulo deve stare però poi in ogni caso la posizione vera in cui ogni modulo sta si ricostruisce a posteriori proprio dalle tracce delle particelle perché se uno vede che la procedura che si chiama allineamento se uno vede che sistematicamente in una traccia il puntino dello strato numero 4 sta sistematicamente sempre un po' più in là questo vuol dire siccome la traiettoria si sa che è una traiettoria curva questo vuol dire che il modulo non è dove pensavamo di averlo messo ma è un pochino più in là e quindi poi si correggia a posteriori la posizione in modo da avere tutti i moduli nella loro posizione vera che è un po' diversa da quella nominale poi ovviamente si vuole poi che questa posizione sia stabile se per qualche motivo ogni tanto le posizioni cambiano perché magari quando si apre chiude il rivelatore per fare per riparare qualcosa e poi si è un po' mosso si rifà la procedura di allineamento ma ovviamente la procedura di allineamento non è che si vuole fare ogni mezz'ora si può fare idealmente due volte all'anno quindi comunque la struttura deve essere abbastanza stabile ora non c'è nessun problema di energia termica che viene dalle particelle quello è totalmente trascurabile semmai l'energia termica viene dall'elettronica dei moduli perché quelli funzionano con la corrente non è che funzionano senza e producono calore e quindi è una cosa effettivamente a cui bisogna stare attenti siccome poi diversi materiali hanno un coefficiente di espansione termica bisogna stare attenti a evitare di avere dei materiali che quando si scaldano e si raffreddano si muovono perché lì uno può costruire un oggetto che poi si comporta come un termometro che si muove secondo la temperatura e quello poi diventa un problema per ricostruire le tracce correttamente bene grazie a tutti ringraziamo di nuovo Duccio Abano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti